Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica. Una situazione che vedrà un minimo di bassa pressione dalla Francia tuffarsi sul Mediterraneo e dar vita a un sistema depressionario con l'arrivo delle piogge sull'Italia. Nel dettaglio ecco lo zoom precipitazioni mediterraneo e notiamo delle piogge anche copiose al nord ovest sul Piemonte. Poi centro-sud e per quanto riguarda il nord-est giornata con pochi fenomeni. Comunque arriveranno lunedì primo maggio. Lunedì primo maggio su tutta Italia bagnato. La nuvolosità e delle precipitazioni più probabili sul versante tirrenico a Pennino, nord ovest e diciamo anche piogge copiose sul Piemonte. Ancora ai margini il nord-est, la Romagna e le Marche. Comunque qui il maltempo arriverà entro il primo maggio lunedì. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.